Ammettiamo di avere una lista con i nomi degli studenti che occupano un ostello universitario. La lista è divisa per appartamenti. Ogni appartamento è un array con all'interno i nomi dei residenti. E tutti questi array sono contenuti all'interno di un array che rappresenta l'ostello. Quindi, vedete qua, ho creato questo array, student-hostel, che include al suo interno quattro diversi array con i vari nomi, che sono delle stringhe. Ora, ammettiamo che io voglio creare una lista con tutti i nomi degli studenti. Posso pensare di poterlo fare in questo modo, quindi con il solito for loop che abbiamo già visto, in cui pongo la i uguale a 0 per indicare il primo indice dell'array, e poi la i deve fermarsi quando raggiunge la lunghezza dell'array, in realtà al di sotto della lunghezza dell'array, infatti inferiore. E qui, facendo il console.log dei vari indici, ciò che ottengo è la lista dei quattro array, ovviamente, perché lui fa console.log dell'indice 1 ed è il primo array, console.log dell'indice 2, scusate, dell'indice 0 ed è il primo array, console.log dell'indice 1 è il secondo array e così via, ma non ottengo una lista solo dei nomi. Per fare questa cosa ho bisogno di annidare, si dice annidare, quindi mettere uno dentro l'altro, due loops in questo caso. I loops possono essere annidati all'infinito. Ora vediamone un esempio. Quindi qua ho creato un for loop che va da 1 a 10. Questo lo posso per il momento commentare. Ecco, una cosa che devo dire è, io negli ultimi due video, o forse anche tre, ho fatto un errore, ed è quello di non mettere la parola let di fronte alla variabile quando la creo dentro il for loop. Il for loop funziona lo stesso, ma questo, come vi spiegherò verso la fine del video, porta dei problemi poi con lo scoping, e anche questa cosa qui ve la spiegherò alla fine del video, delle variabili all'interno dell'array. Quindi, ecco, ricordiamoci sempre di mettere la parola let, ok, qui, prima della i. Ora, quindi questo è un for loop classico, ammettiamo quindi di mettere un altro for loop all'interno di questo for loop, quindi semplicemente ne creo un altro. Qui la parola che devo usare non è più i, perché sennò andrebbero in conflitto. Quindi j posso usare, dopo posso usare la k, queste sono delle convenzioni, poi ognuno mette quello che vuole, quello che gli viene più comodo. Quindi così. Poi ammettiamo di fare j minore di 4, ok? Qui poniamo l'uguale 1, minore di 4, e poi fare j++, più più, e questo for loop gli faccio fare il console.log, ad esempio, della stringa, lascio degli spazi, adesso capirete perché, della stringa che riporta il valore della variabile j, ok? Così. Se io ora salvo, ottengo questa roba qua. Cosa vuol dire tutto questo? Allora, prima di tutto qua vedete la differenza, questo è un numero, perché è viola, e queste sono delle stringhe. Quindi, cosa fa lui? Lui inizia questo loop, il primo loop, e fa il console.log di i, ok? Che è un numero. E quindi il primo numero che fa è 1. Poi, andando avanti, entra dentro questo nuovo for loop. E questo nuovo for loop, che si fermerà a 3, quindi fa solo 3 cicli da 1, stamperà, farà il console.log di questa stringa, che ho creato in questo modo, per lasciare un po' di spazio, in modo tale da vederlo meglio. In cui la stampa riporta la variabile j, ok? Quindi, questo for loop deve prima esaurirsi, affinché possa andare avanti. Ovvero, deve fare i 3 cicli. Quindi fa 3 cicli, 1, 2, 3, ok? E poi, ritorna su e comincia col ciclo 2 del primo for loop. Scende giù, rifà ancora i 3 cicli del secondo for loop, e così via. Vedete, 1, 2, 3. All'interno di ognuno di questi cicli, ci sono questi altri 3 cicli del for loop annidato. Così fino a 10. Questo è il modo in cui funziona un for loop all'interno di un for loop, ma qualsiasi loop all'interno di qualsiasi loop funzionerà in questo modo. Ora, torniamo al nostro esempio dell'ostello degli studenti. Questo lo commento e se voglio, come dicevamo prima, creare una lista con tutti i nomi degli studenti, quello che devo fare è, appunto, creare il primo for loop, sempre con la variabile i, che pongo uguale a 0 all'inizio, perché, appunto, ho a che fare con l'indice di un array. Poi, la i la devo fermare, ovvero la condizione per cui il for loop deve andare avanti, quindi, affinché questo sia vero, il for loop va avanti, la i deve essere inferiore della lunghezza dell'array student-hostel. Quindi, così, length, e poi, in solito, i più più. Poi vado all'interno di questo for loop. Ora, per chiarezza, io creerò una variabile all'interno di questo for loop per farlo essere più eclatante, quello che succede, però potrei farlo anche senza creare questa variabile. Comunque, creo una variabile chiamata, ad esempio, appartement. La chiamo appartement perché rappresenta un appartamento all'interno dell'ostello e la rendo uguale a student-hostel, ancora, all'indice i. Ok? Creata questa variabile, comincio con il secondo for loop. Ora vado avanti a scrivere tutto, poi lo spiego bene. Quindi, secondo for loop, così, for. Qui la variabile che vado a creare non è più la i, appunto, ma è la j. j uguale a 0. Poi devo porre la j inferiore, in questo caso la lunghezza dell'array appartamento, appartement, quindi inferiore ad appartement length, j++. e all'interno di questo vado a fare il console log di qua ho dimenticato il punto, vado a fare il console log di appartement j. Ok? Quindi, ora salviamo, vediamo se funziona, ed ecco qua tutti i nomi messi in fila, partendo dal primo, john, mario, eccetera, eccetera, fino a piotter, che è l'ultimo. Quindi come funziona questo for loop? Appena inizia il ciclo, setta questa variabile appartement, e le dà come valore il primo, il valore del primo indice, quindi tutto questo array. Quindi al primo ciclo appartement sarà l'array john, mario, simon, eric. Poi va avanti, incomincia questo for loop, e questo for loop non fa altro che estrapolare tutti questi valori, quindi va all'interno dell'array appartement, e fa il console log di appartement 0, appartement 1, appartement 2, come abbiamo visto negli altri esempi, insomma, e così via. Poi ritorna sopra, comincia col secondo array, estrapola tutti questi valori, e in questo modo li fa tutti, ok? Se ad esempio io adesso qui a fianco volessi mettere anche l'appartamento di appartenenza, posso fare il console log della stringa, qui devo mettere ancora appartement j, poi due punti, e ora scrivo appartamento in italiano, ad esempio per non confonderlo con la variabile, nel nostro caso, ma comunque sto scrivendo una stringa, dollaro, parentesi graffe, e poi il numero dell'appartamento che sarà i più 1, perché voglio che il primo appartamento sia chiamato appartamento 1, il secondo 2, così via, non 0,1, come gli indici dell'array. Se salvo, vedete, Mario appartamento 1, non ho messo le parentesi, quindi mettiamo tutto questo tra parentesi, così, ok, Mario appartamento 1, Simon appartamento 1, e così via, mi mette a fianco l'appartamento. Ora qui noi abbiamo visto che stiamo usando, abbiamo usato la variabile i all'interno di questo for loop, ok, qua, guardate, ho dimenticato ancora di mettere let, ecco, non dimenticatevelo, perché sennò appunto queste variabili sono poi validi anche all'esterno, ma adesso vi spiego perché. C'è una proprietà che si chiama scope, scritto in questo modo, va capita bene questa proprietà che hanno le funzioni, ma che hanno tutti i blocchi di codice. Questo qui, questo for loop, è un blocco di codice, ok, al cui interno c'è un altro blocco che è l'altro for loop. Quindi, in linea di massima, quello che succede è che un blocco può guardare verso l'esterno, quindi può vedere, prendere il valore di una variabile, ad esempio, dall'esterno, ma non può essere fatto l'opposto, quindi un blocco esterno non può andare a guardare dentro un blocco interno, ok? Quindi, se ad esempio io, qui si vede già che ho usato la i, ok? Però, per farvelo vedere ancora meglio, io posso fare il console log della i, che è del blocco esterno, è fuori da questo for loop, vedete, questo for loop si chiude, se io illumino questa parentesi graffa, quella di chiusura è questa, quindi io sono all'interno di questo for loop, però se salvo, la i, lui me la mette, ogni volta mi mette il valore della i, ok? Se invece io volessi fare un'altra cosa, se questo console log lo prendo da qua e lo metto fuori, quindi all'interno del blocco del primo for loop, quindi qui, e io volessi stampare ad esempio la j, quindi voglio andare a vedere il valore della j al di dentro, quindi dentro un altro blocco che è contenuto dentro questo for loop, se salvo, mi dice j is not defined, quindi non capisce la j perché lui non può guardare all'interno. Lo stesso è valido anche per le funzioni, ma il discorso è leggermente più complesso, poi lo vedremo quando rifaremo ancora le funzioni. Ok, quindi questo era il modo in cui utilizziamo questi for loops annidati e ci vediamo nel prossimo video.